Tempi sempre più stretti per i medici che devono mettersi in regola con la formazione continua. Tra tre mesi scadrà il triennio formativo e la scure delle sanzioni, incombe ancora più dopo che Cogeaps ha inviato le lettere alle federazioni sull'esatta situazione di ogni singolo professionista in merito ai crediti formativi. Spetta ora gli ordini prendere provvedimenti nei confronti dei medici non in regola. Devo dire che le percentuali di inadempienti o di colleghi senza nemmeno un credito si sono ridotte in maniera drammatica, questo va detto, però purtroppo ci sono ancora molti colleghi che non sono certificabili. Diverse iniziative sono state portate avanti dalle federazioni e dai singoli ordini per far capire ai professionisti che esiste un obbligo formativo. Eppure tanti hanno ignorato il tema ed ora rischiano avvertimenti e sanzioni. Io personalmente sono sempre stato convinto che il sistema ECM dovrebbe essere un sistema premiante, cioè se uno realizza i crediti ECM e addirittura magari in più del necessario deve avere degli incentivi e deve essere additato come una persona particolarmente brava. Non il contrario che se uno non li fa viene punito. Io sono per una certa moderazione in questo... E anche per una funzione, come posso dire, adesso non voglio apparire troppo paternalistico, però anche una funzione educativa che hanno gli ordini da questo punto di vista sui professionisti. Incentivi ai meritevoli piuttosto che sanzioni agli inadempienti. Ma attenzione alla copertura assicurativa che dal prossimo trimestre sarà a rischio per chi non avrà raggiunto almeno il 70% dei crediti formativi. Per questo OMCEO Milano punta su un programma nutrito di corsi per invogliare anche i più indisciplinati a mettersi in regola. Sì, noi siamo partiti con un programma davvero nutrito di formazione a distanza. Adesso stiamo rimettendo in piedi alcuni eventi residenziali. Forse riusciremo anche prima della fine dell'anno a farne qualcuno. e peraltro abbiamo sempre avuto e ne faremo altri una formazione a distanza sincrona che comunque è anche quella da crediti. Nel ruolo di provider l'Ordine dei Medici di Milano ha realizzato anche corsi per la radioprotezione, un argomento al quale ogni professionista deve riservare una parte dei suoi crediti formativi. Una legge che è già in vigore da diverso tempo prescrive che il debito formativo personale debba essere dedicato o al 10 o al 15% a crediti conseguiti nell'ambito, come minimo naturalmente, conseguiti nell'ambito di corsi che abbiano come tema la radioprotezione. Tutti coloro che si trovano a poter prescrivere anche solo una radiografia, insomma, sono considerati fra coloro che devono conseguire almeno il 10% del proprio debito formativo in crediti ECM dedicati alla radioprotezione.